amiche ed amici della lettura buonasera questa sera nell'ambito del romance del romance quello che ci piace quello a tratti piccantino quello un po in opposizione faremo un salto nella bella campagna irlandese inglese però attenzione facciamocelo raccontare direttamente dall'ospite di questa sera permettetemi di dare il benvenuto a marina galatioto ciao marina ciao grazie a te che mi ospiti e grazie a tutte le persone che ci ascolteranno stasera come stai bene dai oggi qua dalle mie parti è una bella giornata dopo giorni deluvio almeno il sole ci rallenta diciamo che ci siamo lasciate alle spalle ma gembre si ragione mamma mia che delirio marina per chi non ti conosce partiamo dall'inizio chi è marina galatioto io mi definisco una narratrice di storie scrivo però è come scrivere per me è una cosa mentre narrare una storia è come se la storia esistesse già e io racconto solamente la storia dei personaggi e quindi sono una narratrice mi piace marina mi piace questo approccio questa definizione una narratrice se ti dicessi che un romanzo un racconto sono un prodotto di intrattenimento prima di tutti sei d'accordo oppure no in grande misura sì perché un romanzo deve deve intrattenere leggere ha un sacco di benefici secondo me leggere un libro ti trasporta in un altro mondo e aiuta anche a non diciamo così a scaricare le tensioni della giornata magari a non pensare per quelle due tre ore ai tuoi problemi e a sognare un mondo di favola e non ci trovo niente di male perché comunque sognare è qualche cosa che ti aiuta a vivere quindi io credo di sì com'è nata la tua passione per la scrittura marina quando è che hai sentito quell'esigenza di scrivere non solo per te stessa ma per un pubblico di lettori che noi lo sappiamo a volte possono essere un po cacacazzi no diciamo che sono nata così come dicono in certi cartoni animati no per me è sempre stata una cosa molto naturale io ho iniziato a scrivere favole molto semplici banali credo verso i 9 10 anni ed è una cosa che mi porto dietro da sempre per me la scrittura è un modo di esprimermi di raccontare quello che sono i miei pensieri anche le cose in cui credo e come mi piacerebbe vedere il mondo le relazioni eccetera per cui è tutto un è tutta una creazione per un mondo favoloso di favola e come lo vedi questo mondo senti posso farti una domanda impertinente questo mondo noi oggi ci incontriamo per un romance questo mondo è un mondo romance o è un mondo post apocalittico allora è come dire bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto caratterialmente a me piace guardare il bicchiere mezzo pieno perché mi fa sentire meglio se guardo il bicchiere mezzo vuoto mi deprimo e che dio ce ne scampi liberi poi dopo divento veramente terribile però credo che siamo più abituati a causa della televisione del giornale di come ci raccontano le vicende a vederlo come un mondo post apocalittico e non badiamo a quelle piccolezze che ci sono nella vita di ognuno e che sono delle gioie però ci hanno abituato a guardare i lati negativi e quindi penso che in questo un romance possa aiutare a uscire da da questa da questo circolo vizioso anche io adoro il bicchiere mezzo pieno anche perché mezzo vuoto è già facile cioè gli altri ce li danno sti cavolo di bicchieri mezzi vuoti mezzi vuoti esatto io sto lì a riempirli che cosa ti piace leggere marina hai un genere preferito oppure ti piace spaziare guarda ho sempre spaziato perché alle superiori leggevo anche i libri che parlavano della marina militare perché avevo un amico che è entrato in marina quindi mi dovevo documentare mi documento sempre tantissimo perché credo che al mondo ci siano tantissime cose da conoscere che possono essere interessanti come lettrice ovviamente amo il romance perché se no il fantasy mi piace tantissimo sono cresciuta con la fantascienza di isaac asimo è sempre stato il mio mio mito non amo molto il thriller il giallo i morti ammazzati tutti quei romanzi piuttosto lugubri che invece di tirarmi su mi infoniano dentro in qualche situazione terrificante poi sono un po paurosa un po questo io ho una domanda al volo sì il romance che tipo il romance quello diciamo leggero spensierato oppure quelli che da dark romance mafia romance no 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 e lì un po perversi allora c'è stata una polemica sul book talk terribile che ti che uno dice sì ma se io reggo un romance non vuol dire che dopo domani trovo un ragazzo mi faccio fare quelle cose lì va bene va bene però se devo leggere cioè nel senso ti faccio un esempio nessuna vuole innamorarsi del ragazzo sbagliato oppure di quello che la tratta male o di quello sposato no nessuna vuole però può capitare se tu vedi delle storie in cui quello viene ritenuto giusto in qualche modo accetti la sofferenza e credo che sia l'ho provato in qualche forma e credo che sia molto negativo e deleterio per la persona e possiamo chiamarlo amore ma in qualche forma non lo è poi vedo queste ragazze che che si lamentano e dicono ma no non è così però di contro vedo e so di tante donne che vengono picchiate dal marito che continuano a essere in quella condizione lì poi possiamo dire a che stupida però non è così perché se una persona riuscisse ad uscirne ne uscirebbe se non esce perché ha delle difficoltà e quindi io non me la sento di di appoggiare completamente questo tipo di di letteratura pensa divina poi ognuno fa quello che vuole penso abbia centrato due punti molto importanti il primo che riguarda proprio la produzione letteraria ed è quella tendenza in alcuni casi pochi fortunatamente a giustificare gli abusi fondamentalmente o comunque quegli amori tossici e dall'altro il problema il vizio che fuori dalla letteratura nella vita reale sia a puntare il dito e a giudicare non 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 aiutiamo in questo modo anzi peggioriamo solo una donna una ragazza una sorella una madre che ha bisogno di aiuto non ha bisogno di sentirsi puntare il dito ha bisogno di un ascolto di una spalla quindi l'aiuto non è dire ma dai cosa ci vuole a uscirne perché se fosse facile ne sarebbe già uscita come qua come la persona che si droga o quello che beve l'alcol se gli dici guarda che fa male immagino che tutti se si mettono lì un attimo se ne rendono conto ma dal pensare che fa male a uscirne è tutta un'altra storia beh basta pensa al fumo noce gravamente alla salute ok veniamo al tuo romanzo il tuo ultimo romanzo benvenuti a o cottage partiamo dal titolo perché c'è qualche ci sono delle chicche in questo romanzo perché questo titolo benvenuti a doc cottage allora benvenuti perché lei cerca di creare un bed and breakfast e quindi benvenuti fa pensare all'idea che riesce in qualche modo a realizzare questo sogno o cottage perché mi piaceva allora il cottage è una classica casa inglese quindi comunque o che perché mi è venuto in mente in relazione ad un albergo che conosco in america ho detto ah che bello poi è gufo civetta insomma un animale così quindi mi piaceva perché mi dava l'idea di portare un po fortuna e quindi così il cottage è quella che potremmo definire la villetta di campagna però in stile inglese rettangolare uno a due piani al massimo di quelle della campagna ordinata quella che tolkien direbbe la 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 contea no degli hobbit ordinata pulire con te approfondiamo approfondiamo il tuo romanzo vorrei chiederti di raccontarci un aneddoto collegato alla stesura di benvenuti ad hoc cottage alla stesura sono arrivato ad un certo punto e mi sono detta caspita ma se se lascio che sia lui ad occuparsene porca miseria mi sembrava non tanto banale per la storia ma banale per i personaggi perché lui avrebbe avuto ragione e lei si sarebbe appoggiata a lui quindi normale invece volevo una protagonista che potesse dire no adesso non voglio più che mi aiuti e che potesse avere una una soluzione alternativa e lì mi sono dovuta immaginare come potesse essere e ho trovato questa quest'idea che all'estero funziona tantissimo perché la utilizzano per per fare le cose più svariate anche per pubblicare i libri per fare le case per istruttore cioè qualsiasi cosa che è il crowfunding se si dice così in inglese non sono bravissima comunque una raccolta fondi che viene fatta per uno scopo e così io sono riuscita a salvare cape cavoli noi questo lo possiamo dire senza fare eccessivi spoiler il tuo romanzo rota intorno è un romanzo è un romance quindi parliamo di un romanzo d'amore abbiamo possiamo dirlo non è un mafia romance non è un dark romance è uno di quelli leggeri è uno di quelli leggeri simpatici di quelli dove c'è l'amore c'è una situazione non aggiungiamo altro leggero si cerca un po di sbrogliarla sì però ci sono due particolarità che tutto ruota intorno ad hoc cottage più che le vicende dei personaggi sono le vicende legate a questo cottage sì in più il cottage è inventato ma è l'unico elemento inventato all'interno di un ambientazione che è concreta perché ci arriveremo ma è tutto vero sì sì come mai ho cercato ho cercato se c'era un cottage davvero disabitato non l'ho trovato in quella zona lì e allora ho detto meglio che lo invento perché prendere la casa di qualcuno vero magari poi non apprezza e quindi però tutto il resto è vero il bar piuttosto che le strade l'aeroporto tutto vero sì andiamo subito chi è gareth evans nella finzione del romanzo e nella realtà c'è qualcuno che hai preso come modello per creare il tuo gareth allora lui praticamente diciamo che ha un'agenzia finanziaria e finanzia solo che nella vita si è abituato a finanziare un po come fanno le banche in italia solamente chi può ridare i soldi a quel punto lì cioè è semplice non rischi nulla no cioè è facile decidere a chi darli e chi no in base a al pensiero se li può restituire o meno e lei chiaramente non è assolutamente in grado di restituirli almeno questo è il pensiero che che a lui lui è un tipo tutto d'un pezzo molto quadrato conservatore perché gli inglesi molto spesso sono conservatori e se vuoi mi sono ispirata a una persona che che conosco davvero e che è nel lavoro è sempre stata tutta un pezzo come lui nella realtà era molto diverso però quello che mostrava agli altri era questa diciamo composte esatto questa composte questo essere inattaccabile non sorridere nemmeno per dare questa immagine di sé molto seriosa questo garrett dall'altro lato abbiamo elli e di che per metà è italiana è irlandese un italo irlandese che chiede soldi a un inglese sembra quasi l'inizio di una barzelletta chi è elli nella finzione del romanzo e nella realtà a chi ti sei ispirata per creare la tua elli nella finzione elli è un insieme di caratteristiche di popoli dicono che gli irlandesi sono sempre molto collerici e quindi dovevo da dovevo darle una caratteristica che potessero dire ecco è così perché è irlandese e poi italiana perché vabbè bisogna mettere qualcosa di italiano così mangia italiano vengono in italia insomma c'è quella parte diciamo nazionalista che mi piace nella realtà mi sono ispirata in una ad una parte che non sono io nel senso che lei è pratica crede fino in fondo non dubita mai ha intorno persone a parte garret e suo padre che credono in lei e che la spronano e nella realtà credo che sia più difficile trovare persone che ti sostengono in quelle che possono essere i tuoi sogni impossibili che poi sono impossibili per gli altri perché pensano che non siano realizzabili però la persona magari riesce o riuscirà a realizzarli io ho voluto introdurre questo modo questo concetto per perché chi legge può in qualche modo dire magari posso anch'io mi piaceva mi piace questo aspetto della diciamo culinario di ellie che mangia italiano anche perché l'irlanda voglio dire a parte la guinness poi frigo nel mars non mi sembra una cosa troppo salutare almeno anche in inghilterra mangiano di un male ragazzi terribile prima abbiamo accennato all'ambientazione oak cottage si trova a copthorn la famosa che si trova in inghilterra nella campagna inglese si ora esiste cioè effettivamente esiste è un pezzetto della campagna inglese su scegli questo luogo copthorn come sede dello sviluppo come sede fisica per lo sviluppo della storia dell'arco narrativo ma perché scelta casuale o no no io ho vissuto ice green set che a pochi a poche miglia ho ambientato lì un romanzo anche a crowley quindi non volevo mettere altri personaggi nella stessa città e ho detto rimango in zona e così ho creato questa altra storia ho scritto due storie di fatti adesso ti racconto questa aneddoto dici dici in o cottage c'è un c'è una piccola parte in cui si parla dei due personaggi che che fanno parte dell'altro romanzo ambientato ice green set e londra quindi c'è un piccolissimo cameo di questi due personaggi all'interno di della storia di benvenuti o cottage mi piaceva l'idea di rimetterli per dare una continuità all'altra storia quindi c'è praticamente un crossover tra il romanzo e quest'altro il primo romanzo e quest'altro esatto esatto sì questa è una bella trovata posso farti un'altra domanda certo questo è un po impertinente però va bene tu hai vissuto in inghilterra sì quanto ti manca e se ti manca è una bella domanda ci sono dei momenti in cui mi manca tantissimo ci sono dei momenti in cui mi fermo e mi sembra di ancora percepire gli odori i profumi le strade i rumori per me è stata un'esperienza bellissima e la è un modo di vivere totalmente diverso molte volte ho pensato di dire cacchio vado la compro una casa faccio un bed and breakfast perché la vita è completamente diversa da chiamare o cottage sì non sarebbe male traduzione del romanzo in inglese mi metto anch'io fare un croft funding o funding come si dice e per aprire un cottage vero sarebbe davvero fantastico te l'ho chiesto perché questa dell'inghilterra non è l'unica esperienza che hai fatto all'estero ma te lo chiederò un po più avanti perché c'è questa c'è una cosa che mi incuriosisce molto e poi voglio chiederti le differenze fra i due mondi vorrei a questo punto approfondire se me lo consenti un aspetto un po più tecnico della tua scrittura vorrei capire tu che tipo di scrittrice sei ti arriva l'idea a quel punto che succede ti arriva l'idea come immagine come emozione come come sollecitazione intellettuale e poi flusso di coscienza testa bassa e scrivi oppure ti siedi in maniera scientifica crei trama sottotrame come funziona io sono scientifica zero voglio zero cioè quando sento qualcuno che lo dice dico cavolo che bravi io non riesco la prima cosa che penso e mi viene in mente un personaggio e devo trovargli un nome se non gli trovo il nome giusto non sono soddisfatta perché quella per quel personaggio per me è un'anima in qualche modo e quindi deve avere un nome che rappresenti quello che è lui la sua anima di personaggio diciamo così una volta che l'ho trovato quattro righe dieci righe quello che è la storia come mi è venuto in mente e poi inizio subito a scrivere e ad un certo punto vado da sola cioè è come se io narro e basta è come se i personaggi prendono vita e non te lo so dire meglio di così perché per me è così naturale che c'è niente così tu hai una routine di scrittura nel senso hai delle dei giorni prestabiliti delle fasce orarie prestabilite di solito scrivo più volentieri dopo cena di notte quando non sono suona il telefono a casa dormono e quindi sono più diciamo così isolata però al di là di quello scrivo quando tempo la mattina pomeriggio non ho un orario fisso ovviamente sono alla mia scrivania perché ho un computer con un bello schermo gigante la tastiera che così diciamo diventa anche un po più facile anche perché la vecchiaia incomincia a diventare un po cieca e quindi mi serve ingrandire gli occhiali e detto questo no no invece le idee quando mi vengono le appunto su dei foglietti e ho foglietti sparsi ovunque è un disastro parliamo del blocco della scrittrice se è mai capitato se sì come ne sei venuta fuori allora blocco della scrittrice intendo arrivare ad un certo punto e dire caspita adesso come me la cavo e non avere un'idea brillante perché vabbè mi piace sempre comunque che ci sia qualche cosa che sia nuovo no cioè non la solita cosa e quando mi capita mi metto lì e cerco di pensare a come potrebbe essere mi faccio un sacco di così faccio un sacco di pensieri e cerco di trovare quale sia la soluzione migliore esploro tantissime idee fino a che non trovo quella quella giusta magari rileggo dall'inizio così vedo dove sono arrivata e uso questo metodo e funziona una domanda ti è mai capito oh che bel micione dai levati zero come si chiama? zero perché mio figlio guarda un anime con il protagonista che si chiama zero l'ha chiamato così io zera il gatto zero è perfetto ritorniamo un attimo al blocco della scrittrice hai mai utilizzato così per sperimentare l'intelligenza artificiale no no per la scrittura no anche perché è bellissima ma solo come per avere delle variabili sull'intelligenza artificiale ci ritorneremo ritorniamo a benvenuti a Hawk Cottage tu scegli la strada del self publishing l'autopubblicazione tramite Amazon KDP una scelta che io francamente e lo dico con molta onesta intellettuale approvo approvo non solo perché per gli autori più spigliati diciamoci la verità da molte soddisfazioni c'è la possibilità di lavorare ormai è stata sdoganata visto che da quest'anno anche il salone del libro di Torino finalmente l'ha accettata quindi possiamo dirlo pubblicare in autopubblicazione non è il male dell'umanità c'è tanta c'è tanta roba che non avrebbe proprio dovuto essere caricata ma c'è anche in diverse case editrici quindi è sicuramente meglio il self che una casa editrice a pagamento su questo non si discute assolutamente quello lì non anche perché c'è una casa editrice a pagamento è più interessata a prendere i soldi piuttosto che a curare il lavoro dell'autore mentre l'autore in self se è furbo prima di pubblicare fa quello che serve per rendere il romanzo fruibile e più il romanzo è fruibile più lui guadagna o lei guadagna soldi è chiaro che però devi fare la promozione quello è in dubbio questo lo possiamo dire alfa reader beta reader e editor sono figure che non vi sottraggono soldi amiche amici della scrittura che scrivete ma sono figure importanti che vi aiutano ovviamente ci sono i professionisti ci sono gli improvvisati ma questo poi dipende da voi se uno c'è il modo per trovarli il lavoro va pagato punto sì ci sono anche quelli che sono magari più a buon mercato perché stanno iniziando e comunque sono un validissimo aiuto perché se le cioè io posso leggere il mio libro 30 volte non trovare un errore e per me può avere un filo logico una persona esterna si rende conto se c'è qualche cosa che non fila e non ti dice cambialo ti dice solo aggiusta qui e aggiusta là più il libro è ben fatto ben confezionato più le lettrici sono felici e questo va tutto a nostro beneficio ovviamente assolutamente e poi possiamo dirlo la promozione a prescindere dal pubblicare in self o dal pubblicare con una casa editrice la promozione va fatta sempre e costantemente quindi su questo non si discute assolutamente sì e ci sono tanti modi anche chi pubblica con la casa editrice dovrebbe farlo comunque assolutamente anche perché persino gli autori di Mondadori fanno il giro nelle filiali a promuoversi quindi firma copie è comunque una promozione vorrei chiederti rimanendo sul self quali sono secondo te le opportunità e quali invece le criticità cioè se Alfonso Zera si approccia opportunità e criticità del mondo self publishing beh opportunità quando io ho iniziato a pubblicare il self publishing non esisteva proprio quindi o avevi una casa editrice che ti fidava credeva in te tanto da pubblicarti allora va bene altrimenti rimanevi nel tuo brodo con i tuoi romanzi nel cassetto a meno che non ti rivolgevi ad un editore a pagamento vent'anni fa l'ho fatto ed è stata veramente la cosa peggiore che potessi fare in tutta la mia vita perché non solo non ho tirato fuori un euro ho scoperto proprio che lasciamo stare e proprio non dico disonestà perché non voglio usare questi termini ma approfittismo all'epoca però non c'era non c'erano soluzioni alternative adesso c'è il self publishing c'è comunque Amazon c'è Kobo c'è ce ne sono tantissimi ci sono piccoli editori che pubblicano solamente ebook adesso le possibilità sono infinite c'è Watford questo però esatto esatto c'è anche quello questo cosa significa che chiunque ha la possibilità di scrivere e può scrivere chiunque la differenza la fa il risultato chiunque può scrivere però dovrebbe avere non dico l'umiltà ma dovrebbe avere diciamo così un minimo di autocritica e dire ok prima di pubblicarlo lo faccio leggere non alla mia amica che magari non confronta di dirmi guarda che hai sbagliato lì o hai sbagliato là perché è mia amica e dice bellissimo io ho mai fatto leggere alle mie amiche perché perché anche se ti dice bellissimo come fai a essere certa che è la verità e non te l'ha e non l'ha detto per te quindi io voglio uscire con un prodotto che sia perfetto cioè per quello che mi riguarda poi le monostelle arrivano in qualsiasi caso quindi meglio creare un prodotto che sia fruibile e in quello non lo so io per esempio ho un romanzo che mi sembra che ho valutazione 3,8 stelline e ho 300 recensioni quindi e di quel libro lì ti dico è stato un successo strepitoso però lì l'ho fatto l'ho fatto comunque verificare da un editor io non pubblico niente se non l'ho fatto vedere da un editor ma è giusto così è un prodotto e se non è la criticità del self-publishing che è proprio il pubblicare ho finito lo pubblico e no non è così cioè la coca cola verifica la catena di produzione e la qualità la fiat c'è controlla la catena di produzione e la qualità cioè e perché è un libro no guarda è esattamente così c'è un passaggio che spesso non si capisce le case editrici a pagamento esattamente come il self pubblicano velocemente però mentre il self è una tua scelta la casa editrice a pagamento lo fa perché c'è un compenso i soldi se li pigliano prima con l'obbligo di acquisto di un tot copia eccetera una casa editrice non a pagamento ha tempi lunghi perché come ogni attività imprenditoriale ha il rischio di impresa e ha una programmazione quello che spesso molti autori non capiscono è che se io finisco oggi di pubblicare e di scrivere completata anche la parte di editing beta reader eccetera e probabilmente 2024 giugno 2024 probabilmente il mio libro vedrà la luce se tutto va bene 2026 perché l'anno prossimo i grandi ci vuole minimo un anno ma anche i piccoli perché è una questione poi di numeri un editore piccolo esce magari con un libro a settimana un editore medio con quattro libri a settimana un grande con dieci libri a settimana 10 12 quanti sono sì però dietro ha un sacco di personale esattamente e questa è la cosa che non si capisce perché molti dicono perché allora casa editrice non a pagamento ci mette tutto sto tempo e la casa editrice a pagamento subito è nel suo interesse incassare il denaro esatto esattamente io ho un amico che ho un amico che ha pubblicato un romanzo di fantascienza con non a pagamento e però secondo me il l'editing è stato fatto male se vuoi è banale ma io ho fatto la giornalista e ho fatto dei corsi per fare la giornalista una delle prime cose che mi hanno proprio su cui mi hanno martellato guai a te se usi nella stessa frase lo stesso verbo lo stesso aggettivo no io quando scrivo sto attentissima poi quando rileggo se trovo la stessa parola la cambio perché comunque non deve annoiare invece vedo molto spesso che questo che è un lavoro da editor quando le case a pagamento le case editrice a pagamento piuttosto che non lo fanno ed è un secondo me scusami una grave mancanza che poi in qualche forma chi legge non sa che è quello però si rende conto che il testo c'è qualcosa che non scorre esattamente no e boh mi dispiace per lui perché effettivamente potrebbe essere anche un buon libro però dopo due pagine dici caspita un po pesante no guardate te ne dico una a proposito di strafalcione fatti durante gli editing mi capita di girovagare su amazon e trovo un romanzo ambientato negli stati uniti c'è questa multinazionale statunitense con la dicitura srl ma noi sappiamo che lsrl è una dicitura italiana e non è neanche per le multinazionali c'è lsrl è anche quella del negozietto giù casa mia che vedi i panni c'è sì sì beh te ne dirò un'altra allora come io ho vissuto in america anche lì ho vissuto diversi mesi e noi in italia diciamo sono felice come una pasqua se lo dice un americano ti guarda e dice che che stai dicendo cioè non esiste felice come una pasqua perché loro non hanno quel tipo di difatti le prime volte io effettivamente li 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 dicono e piece of cake come dire una stupidata oppure per dire che sono felici dicono sono felice come un larry e all'inizio io ho iniziato a scrivere sono felice come un larry e qui diventava una cosa particolare c'è cacchio centro un larry però effettivamente se vuoi ambientarlo all'estero in teoria dovresti anche utilizzare le cose di quel posto lì sennò l'hai scritto l'italianizzato è altrimenti scrivete di quello che sapete se abita se abitate a pollenatrocchia che è un paese che esiste nel vesuviano ma scrivete di pollenatrocchia non mi inventate cose che non erano in terra ma anche perché per esempio io non avrei comprato quel libro solamente per quell'errore l'avrei scartato subito tra l'altro messi in quarta di copertina cioè se tanto mi da tanto lo cestino su poi magari è il libro migliore più bello certo però sono quei dettagli che che uno che lo sa come è possibile sai che ora è è l'ora di farci qualche nemico mi sembra giusto no va bene parliamo del romance italiano sì quali sono secondo te le criticità di questo genere letterario in italia ovviamente in italia dal mio punto di vista è sì 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 opinioni personali quindi non va esatto secondo me è poco pubblicizzato dovrebbe esserlo molto di più di fatti all'estero è veramente molto più pubblicizzato le autrici all'estero di romance sono molto più sono considerate delle vere scrittrici qua in italia un bel po meno quindi questo credo che faccia la differenza e crea anche quel distacco perché non esistono scrittori di serie a scrittori di serie b non esiste un genere di serie a o di serie b anche se nella storia della letteratura sono esistiti però di in quei casi lì bisognerebbe secondo me contare i numeri faccio un esempio stupidissimo appunto avendo un po diciamo così qualche info in più sul mondo americano considera che nel 1950 1960 c'era una rivista in america che si chiamava pulp era fatto su carta cioè di poco valore proprio carta così e di seconda mano perché la rivista doveva costare pochissimo ed era venduta ma non so 50 50 centesimi pochissimo su quella rivista ci hanno scritto a isaac asimo e i più grandi autori di fantascienza lui è ritenuto il padre della fantascienza moderna loro scrivevano su quelle rivista attraverso la rivista sono diventati famosi i grandi autori dell'epoca dicevano guarda scrive su quella rivista però poi questi a distanza di 70 anni stiamo ancora parlando di loro sui loro libri si fanno dei film quindi di cosa stiamo parlando è un po è un po e un po quella diceria che serve a qualcuno e non so chi ecco e diciamolo prima abbiamo accennato all'intelligenza artificiale le tre leggi della robotica di asimo il film l'uomo bicentenario con robin williams è sulle regi della robotica io robò ma quanti ne hanno fatti cioè e ti parlo di una rivista di 70 anni fa e all'epoca era criticata ma dava da mangiare a tutti questi autori che poi sono diventati famosissimi strafamosi secondo te quindi cosa manca al romance italiano per essere competitivo all'estero di sicuro la promozione tanta tanta promozione e le case editrici che dovrebbero investire un po di più pensare magari io non lo so magari loro lo fanno io non ne ho idea a pensare di vendere all'estero invece di comprare solamente ci sono dei casi di scrittrici che sono andate all'estero tipo la mia amica cristina caboni che lei è una scrittrice ha scritto dei bellissimi libri lei è stata tradotta in molte lingue all'estero ha fatto un grande successo e quindi la casa editrice è stata è stata brava nel senso che lei ha avuto un grande successo in italia e il libro è stato tradotto in tante altre lingue è chiaro che ci vogliono degli investimenti ci vogliono anche degli agganci all'estero per poterlo fare soprattutto bisogna crederci io credo che il romance in italia sia fortissimo perché abbiamo delle vendite veramente altissime adesso con tutti questi festival il festival del romance a milano a roma eccetera stiamo stiamo diciamo creando tutto un mondo attorno degli eventi e credo che sia veramente positivo purtroppo c'è sempre chi pensa e romance e quello si è una stupidata perché è un comparto che tira è il comparto che tira di più nell'editoria quello che consente guadagni alle case editrici fammi essere impertinente dai il romance se parli troppo dimmelo è perché no no anzi è interessantissimo ti dico il romance è assolutamente io sono d'accordo il romance è probabilmente il genere più venduto punto sì è vero non c'è i dati su quelli magari in italia se la gioca il romance con il giallo perché abbiamo una tradizione di giallisti italiani che vendono sì non necessariamente bisognerebbe confrontare i dati però diciamo che in generale il romance tira e il romance viene letto perché qualcuno che cioè se c'è gente che li compra qualcuno leggerà non penso che li comprono ma ci sono ragazze che leggono 10 libri al mese ora la mia la mia domanda è se vengono venduti e anche io leggo romance lo dico con molto l'ho sempre detto con molta onestà ci sono tanti uomini e che adesso hanno iniziato a leggere i romance qual è il problema che abbiamo con i romance perché ci mettono perché ci mette così a disagio dire ho letto un bel romance cioè qual è il problema ti posso parlare allora vabbè io alla mia età considera che io sono allora avevo una vicina di casa che leggeva ma tipo 200 armoni al mese ti parlo di quando io avevo 15 anni me li passava e quindi io ne leggevo carrettate a quei tempi se leggevi harmony allora eri una donna frustrata quindi sull'autobus leggevi di nascosto a quasi a disagio no e allora io penso che leggere qualsiasi cosa una persona lega cioè per me la lettura è una forma di di libertà pensano un mondo in cui le persone non non sa non sanno leggere come fanno a conoscere le verità sulla vita cioè perché un romance va bene ma la verità sulla vita tu non la puoi sentire dal vicino di casa devi leggerti un giornale devi leggere non lo so io un qualcosa che ti spiega della vita piuttosto che di come costruire una casa di come non farti fregare se stai facendo il mutuo per esempio no quindi per me leggere cioè è libertà quindi che uno lega un romance che uno lega il fumetto che uno lega qualsiasi cosa per me il fatto che uno legge è già è già una ricchezza poi attraverso il romance sì secondo me si possono avere tante cose purtroppo è distrattato ma secondo me un po perché non è stato capito guarda li ala mamma mia c'era fatto un successo esagerato ha pubblicato tantissimi libri i libri seguono diciamo che romance segue un po quelli che sono quello che è l'evolversi della società credo che sia una ricchezza purtroppo molte persone la vedono astu leggi ma quello non è un problema del romance quello è un problema della persona che ritiene positivo non leggere purtroppo io la vedo così mi dispiace non voglio offendere nessuno però per me chi non legge diciamo così è vero adesso ci sono i film i documentari tutto quello che vuoi però leggere è comunque alfabetizzazione concordo concordo ed è la non lettura è causa della della dell'analfabetismo funzionale di ritorno c'è poco da fa e poi se noi abbiamo una delle più grande uno dei più grandi triangoli amorosi elena menelao e paride ci sarà un motivo tra l'altro tra l'altro in tempi recenti molti generi totalmente diversi rispetto al romance si stanno un attimino avvicinando stanno facendo delle contaminazioni e lo vediamo nel giallo lo vediamo nel thriller lo vediamo ma anche nella nella fantascienza se anche nella fantascienza comunque vorrei spezzare una lancia allora sto pensando di creare un blog solamente sul romanzo rosa mi sto informando e ho scoperto che i primi romanzi rosa sono stati scritti nell'antica grecia quindi hanno una lunga 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 storia c'è sempre una storia d'amore anche il cavaliere dalla bianca armatura splendente che va a salvare la principessa sicchi diciamo il bacio il matrimonio quello che è quindi di fatto c'è sempre quella componente tre titoli assolutamente imperdibili secondo marina galatiotto non saprei dirti tre titoli però ti posso dire delle scrittrici perché hanno scritto romanzi che meritano di essere letti come ti dicevo una cristina che ha scritto questi romanzi bellissimi sui fiori nel senso cristina carboni cristina carboni 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 perfetto sì poi c'è l'anna premoli anche lei ha scritto veramente tanti libri una brava scrittrice con fantasy e si fantasy romanzi leggero mi piace molto direi loro due perché ce ne sono tante altre ma loro sono quelle che mi hanno più diciamo così mi sono più rimaste impresse ne posso aggiungere un'altra io quale aggiungeresti marina galatiotto no dai si 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 la aggiungo io marina tu da oltre vent'anni collabori con diverse riviste collegate anche alla narrativa femminile e quindi con tutto ciò che riguarda l'universo femminile quali momenti ricordi con maggiore emozione allora ti racconto allora considera che io il mio primo romanzo rosa l'ho scritto e poi ho avuto a che fare con un agente letterario una donna e lei ci parlo di tantissimi anni fa credo 25 mi ha detto guarda il romanzo italiano romanzi in italia non va per niente e vabbè lasciamo stare erano altri tempi magari lei non lo sapeva non so dirti e mi dice guarda se vuoi pubblicare devi scrivere qualcosa un racconto del mistero io vengo a casa piuttosto delusa e dico un racconto del mistero adesso che cavolo scrivo e mi viene un'idea mi viene un'idea e dico dai vai questo qua è bellissimo stupendo lo mando a un sacco di concorsi o zero assoluto proprio per ultimo nessuno l'ha preso in considerazione niente a un certo punto un po delu molto delusa già così perché le porte in faccia i no non è che siano proprio così piacevoli dopo se diventi famoso allora dici ah va bene mi è andata bene ma nel mente non è bello quindi molto diciamo così avvilita senza speranze decido vado in edicola faccio un giro compro un po di riviste decido di spedirlo a grand hotel non so se la conoscete ok ai tempi facevo un milione di e mezzo di copie alla settimana era uno dei giornali più c'è delle riviste più famose in italia senza proprio nessuna speranza all'epoca la mail esisteva solamente per spedire ciao e bla e basta quindi faccio la mia bella busta di carta spedito all'indirizzo esatto spedisco il romanzo stampato dentro nella busta con una lettera in cui mi presento anche banalmente perché se vuoi avevo 20 anni quindi banalmente mi presento e non ci penso più perché è proprio l'ho fatto sai l'ultima spiaggia disperazionale basta un giorno io lavoravo a casa non sono al telefono risponde mio marito e dice sì sì un attimo che gliela passo mi risponde ed era la direttrice editoriale della rivista la cosa assurda che io non me l'aspettavo e balbettavo come una scema c'è proprio grazie sì sì ma che c'è proprio assurdo aveva letto la storia gli era piaciuta tantissimo e l'avrebbe pubblicata di lì a 15 giorni da lì ho lavorato per loro per 10 15 anni nel suo ricordo e ho scritto tantissimo per loro sia del mistero gialli romana racconti rosa piuttosto che e quella è stata la volta più emozionante perché è talmente inaspettata che giuro malbettavo e poi quando attaccato detto mio più figurato però è stato bellissimo davvero dal 2002 ad oggi tu hai pubblicato circa 1600 racconti 1600 sono un'enormità sì quale racconto guarda sarò molto buono con questa domanda quale racconto ti ha messo maggiormente in difficoltà e quale invece ti ha entusiasmato proprio fin dal principio allora iniziamo da quello che mi ha messo più in difficoltà è stato un racconto che ho scritto su una persona e lo scritto proprio per farglielo leggere perché speravo che leggendolo avrebbe avuto l'illuminazione purtroppo non l'ha avuta quindi è rimasto è rimasto sul giornale la nostra storia è rimasta lì sul giornale ha fatto parte di della mia vita in quel senso lì e poi basta quindi quello devo dire che è stato il più difficile scritto proprio da un punto di vista del poterlo avere scritto per per usarlo diciamo in qualche modo così quello che invece mi ha entusiasmato di più ma è stato un romanzo puntate che ho che ho pubblicato su grand hotel tantissimi anni fa in cui c'era una storia che poi avevo presentato come sceneggiatura al bia film festival c'è un festival del cinema che c'è a busto arsizio e lì era la storia di questo ragazzo e si innamora perdutamente di questa ragazza e la sposa e purtroppo lei ha dei problemi mentali non indifferenti e alla fine rende la vita di lui un inferno davvero ed è una storia che mi ha appassionato molto perché era bello poter in qualche modo descrivere le sensazioni che poteva provare in queste situazioni veramente pazzesche era un amore tossico effettivamente però per fortuna lui durante se ne rende conto in qualche modo cerca di aiutarla ma anche di uscirne posso farti un'altra domanda di quelle proprio buone 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 ma vedi questa faccia sì il personaggio che hai amato di più e quello che in assoluto hai detestato di più sempre è sempre lui ti ricordi che ti ho detto che in occorre già ci sono i due personaggi dell'altro romanzo ecco il personaggio che odiato di più è federico e quello che amato di più è sempre federico li è stato cioè perché lui per gran parte del romanzo sembra veramente antipatico e difatti molte lettrici mi hanno scritto l'ho odiato avrei voluto picchiarlo giuro anch'io però è proprio la storia di cambiamento una persona non lo può fare da un giorno all'altro nella realtà quindi un cambiamento così epocale deve avere tempo di maturare e ammesso che ci sia il cambio ammesso che ci sia certo e lì la persona deve decidere se vuole dare tempo all'altro di maturare oppure no io credo che ci sia sempre un momento in cui bisogna dire basta e poi lì è chiaro che dipende dalla persona però deve sempre stare attenta a non valicare diciamo quel punto in cui poi dopo è persa e non si riesce più a trovare da trovare se stessa marina nel corso di questa chiacchierata abbiamo accennato a un'altra esperienza all'estero a questo punto te la vorrei ti vorrei porre questa domanda tu hai ottenuto un master negli stati uniti si ci parli di questa esperienza è stato tantissimi anni fa stato 11 12 anni fa era quando praticamente social media e marketing in italia era se ne parlava ma molto poco mentre all'estero era una realtà molto più utilizzata per la promozione per far conoscere le aziende piuttosto che altre realtà e quindi ho pensato che poteva essere utile andare ad ascoltare come utilizzare i social per per promuovere i miei romanzi diciamo che ormai quel master lad adesso non ha più valore che nel senso che internet si evolve talmente rapidamente che quei dati la oggi sarebbero vecchi però mi ha dato l'opportunità di poter capire come funzionano certe cose ed entrare nel meccanismo del come funziona e quindi uno deve sempre chiedersi ma come che funziona come che posso utilizzarlo e scavare un po più a fondo per capire le cose che possono essere utilizzate anche da noi e in che modo sempre essere attivi cioè nel senso mai fermarsi e imparare sempre di più perché secondo me è proprio quello che ti può portare ad ottenere più risultati è vero che quell'esperienza magari per quanto riguarda i dati risulta ormai inutilizzabile oggi nel 2024 però ti ha dato la possibilità comunque di lavorare e di partire molto più avanti rispetto all'italia cioè tu eri nel futuro rispetto a quello è vero di fatti considera che beh io e primi romanzi che ho pubblicato su amazon è stato proprio circa nel 2013 non esisteva ancora il kdp quindi il kindle unlimited le pagine lette e si poteva solamente pubblicare gli ebook e forse i libri cartacei adesso non ricordo per sì cartacei era molto più complicata tutto il sistema diciamo di pubblicazione era più complicato però in quegli anni lì ho proprio pubblicato per la prima volta in self e devo dire che caspita era andata già alla grande proprio sì e tanti anni e sono tanti posso farti una domanda impertinente dimmi la differenza tra gli stati uniti e l'inghilterra le esperienze ti è piaciuta di più e perché completamente diverse cioè se l'inghilterra a parte londra è perché londra è chiaro che è una metropoli e caotica e tutto quello che vuoi però ritmi più e lenti più a livello se vuoi umano mentre in america anche lì dipende dal dal posto che vai per esempio ho odiato in modo viscerale l'aeroporto di new york guarda veramente stato un incubo esistenziale e almeno per me era troppo caotico troppa gente troppe cose quindi risultava per me in una tale confusione che non sapevo più cosa fare qual è il kennedy sì jfk invece ci sono altre zone che somigliano all'inghilterra perché sono più diciamo così lente se vuoi più a misura umana dipende molto dalla zona ma il carattere che secondo me fa la differenza perché l'inglese più conservatore un po più diciamo composto dell'americano è un po più factilone dai dai se vuoi se vuoi così però sono dell'america si parla tanto male perché non c'è il servizio sanitario quindi te lo devi pagare eccetera eccetera però se devo essere onesta io lì ho fatto un check up completo l'ho chiesto oggi due giorni dopo l'ho fatto l'ho pagato considera che ti parlo di nel 2016 quindi ti parlo di tanti anni fa forse l'ho pagato 150 dollari compreso il cardiogramma e tutto quanto adesso qua in italia se vuoi fare per conto tuo non lo so quanto paghi se invece lo fai con il servizio sanitario magari tipo mio padre deve aspettare un anno un anno e mezzo c'è uno fa in tempo a passare a miglior vita io preferirei pagarmelo c'è nel senso se mi dai l'assistenza sanitaria me la dai se non me la dai mi dai modo di prendere i miei soldi metterli in un fondo e lasciare che sia io che me ne occupo sono dei punti di vista diversi ci sono pro e contro in tutto guarda recentemente mi è capitato parlando dell'assistenza pubblica no italiana mi serviva un'iniezione ma è una cosa banale però era su prescrizione costo dell'iniezione 5 euro se io ti dico che mi serve dice no devi andare alla guardia ma mi hanno fatto fa un giro della madonna per avere sta cosa purtroppo è così cioè è vero e purtroppo ok cioè io capisco però secondo me è impensabile che una persona allora di far la differenza tra quello che ha veramente bisogno e quello che non ne ha bisogno di quello che se ne approfitta esatto però non mi puoi far aspettare un anno per delle cose che sono urgenti cioè devi valutare quello che può aspettare lo fai aspettare quello che è urgenza non so forse perché siamo scarsi di personale io mi dico così però va bene anche quello ci sarei qui scoperchiamo proprio anche perché se poi io pago il posto te lo trovano subito quindi non lo so ma basta pensa per esempio allo scandalo delle siringhe una siringa costava il trip l'azienda sanitaria il triplo del privato e lì tu pensi ma se un'azienda sanitaria ne compra no a pacchi prova bancali non dovrebbe pagare di meno al posto di pagare il triplo e ci sono tante tanti perché se forse l'italiano è abituato a farci la cresta non lo so o a non protestare sia anche anche marina una delle domande che mi piace porre agli ospiti di questo canale una domanda molto molto personale che cos'è per te la felicità ma che bella domanda allora la felicità per me poter fare quello che mi piace fare già io penso che questo è poter fare il lavoro che mi piace poter abitare nella casa non dico dei miei sogni ma nella casa che mi piace avere un gatto avere una famiglia in cui tutti vanno d'accordo secondo me sono è felicità poi magari uno pensa che la felicità sia qualche cosa di eclatante per me la felicità può essere anche andare al bar a bere il crodino insieme insieme al mio compagno oppure portare mio figlio a comprare le scarpe che ne so al centro commerciale la felicità a parte che individuale credo che sia fatta di tante piccole cose che ti rendono ogni giorno bello che vale la pena di vivere progetti per il futuro che cosa bolle in pentola che cosa ci puoi dire ovviamente dal punto di vista letterario e credo che questo mese all'inizio del prossimo che era il mio nuovo libro io non riesco a stare senza scrivere ed è una storia diversa è sempre un romance però un genere un po diverso poi ho un progetto di un di una saga che è tra la fantascienza e il fantasy a cui sono particolarmente legata ci sto lavorando ma è lì un sacco di ricerche per cui ci vuole veramente tantissimo tempo e poi ho quel progetto lì del canale del rosa perché secondo me bisogna sdoganarlo e basta dai credo di aver detto abbastanza saga vuol dire che sono almeno tre libri più volumi sì sì non so forse di più di tre pensavo sui sette ma si parte con un numero e poi sono tanti personaggi volevo dedicare un libro ogni personaggio poi però bisogna vedere se è fattibile oppure no anche perché tirare lungo il brodo solamente per farne tanti a me non piace no 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 è un po come gli spiegoni all'inizio del di qualche ecco qua di qualche romanzo di fantascienza so brutti so inutili e mi rovinano la lettura sì io vorrei ricordare a chi ci ha ascoltato finora che benvenuti a oak cottage il romance scritto da marina galatioto l'ospite di questa sera è pubblicato in self quindi un motivo in più per acquistarlo è acquistabile sia nella versione digitale che in quella cartacea direttamente da amazon.it trovati il link in descrizione vi invito a seguire marina galatioto su tutti i suoi profili social per tutte le attività legate alla narrativa e non solo che porta avanti se siete amanti del romance non potete non seguire la nostra all'ospite di questa sera la nostra marina vi invito inoltre a seguire agenzia ciclope lettore di silvia nigro l'agenzia letteraria sponsor per questa sera di marina galatioto che cosa dire marina io ti ringrazio per il tempo che c'è dedicato tienimi aggiornato sulla questione romance perché ci tengo particolarmente è un genere che quando trovo scrittrici romance sono sempre contento prima o poi troverò anche un autore romance è complicato trovarlo e finirò per scriverne uno io probabilmente perché no è perché no infatti ma lo pubblicherò in self questo questo è poco ma sicuro marina io ti ringrazio di tutto e ti aspetto per il prossimo romanzo grazie a te sei stato carinissimo e gentilissimo mi ha fatto davvero piacere chiacchierare e grazie a tutti per averci ascoltato un abbraccio ciao marina buona serata ciao buona serata a tutti voi ciao ciao ciao